Signore e signori, benvenuti a ok, adesso non è giusto, i primi quattro concorrenti di oggi sono la signora Suoresa, il signore Scrotto, la signora Tarzanello, la signora Skito, è il turno di Ivar Felici. C'è un programma nuovo alla televisione, si chiama che è il prezzo giusto ed è già un tormentone non c'è la tanichi che spara le sue strontate, è pieno di schiavi negri, puoi anche prenderli abbastanate Ok, il prezzo giusto, hai dominato il prezzo dello schiavo Ok, il prezzo giusto, hai vinto un ebreo e anche un amavo Ok, il prezzo giusto, non più tasse da pagare Ok, il prezzo giusto, se ti dai anche da mangiare Ecco qua risolto, il problema dell'immigrazione Non c'è più bisogno, dai campi di concentrazione E se poi qualcuno, magari prova a scappare Con un bel applauso, noi lo mandiamo a gagare Ok, il prezzo giusto, quanti anni mi ne andate a lezione Ok, il prezzo giusto, comprensiamo almeno di un milione Ok, il prezzo giusto, ogni sera alle otto e mezza Ok, il prezzo giusto, c'è lo show della nostra razza Ok, il prezzo giusto, c'è un programma nuovo a la televisione Ok, il prezzo giusto, si chiama Ok, il prezzo giusto, ed è già un tormentone Non c'è la tanichi, che spara le sue sfondate Ma è pieno di schiavi negli, puoi anche prenderli abbastonati Ok, il prezzo giusto, hai dominato il prezzo dello schiavo Ok, il prezzo giusto, hai vinto un ebreo e anche un slavo Ok, il prezzo giusto, ogni sera alle otto e mezza a pagare Ok, il prezzo giusto, seguirai anche da mangiare